L'ex sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, del Partito Democratico, è stato assolto in appello dall'accusa di abuso d'ufficio dopo la condanna in primo grado a due mesi e venti giorni, ad emettere la soluzione i giudici della Corte d'Appello di Palermo. Dopo la condanna a due mesi e venti giorni, Zambuto, lo scorso anno, si era dimesso dal suo incarico. Secondo l'accusa, l'ex primo cittadino della città dei Templi avrebbe commissionato una pagina pubblicitaria su un quotidiano in cui c'era un articolo per pubblicizzare l'attività della fondazione Pirandello di cui era presidente. Ieri la soluzione in appello, con formula piena. Subito dopo la condanna di primo grado, il dirigente del PD siciliano, Renziano, si era dimesso da primo cittadino di Agrigento, prima ancora della sospensione dell'incarico prevista dalla legge Severino per gli amministratori condannati. Oggi Zambuto fa l'avvocato a Palermo, lontano dalla sua Agrigento. E alla domanda se condivide il ricorso al Tar, poi vinto dal sindaco di Napoli Luigi De Magistres, si dice Io non ho presentato ricorso perché sono del parere che dura l'ex sed l'ex, ovvero la legge è dura ma è sempre la legge, però non deve più succedere. A breve Agrigento tornerà il voto, ma Marco Zambuto non sa ancora se ricandidarsi. In questi mesi sono stato volutamente un po' lontano dai riflettori, proprio perché penso che chi fa politica non debba avere nessuna macchia. Oggi assaporo la mia soluzione, in futuro si vedrà. Oggi intanto questa soluzione mi restituisce piena legittimazione politica. Sulla ricandidatura vedremo. Indubbiamente c'è da parte mia grande soddisfazione per questa sentenza che veramente fa giustizia. Ho sempre creduto nella giustizia e ho pagato anche un prezzo alto che è stato quello di dimettermi perché ho sempre ritenuto che l'esercizio di una funzione pubblica deve essere fatto al di là e al di sopra di qualunque sospetto. Non ci può essere alcuna macchia e quella condanna che avevo ricevuto, ingiusta, era comunque una condanna di una istituzione repubblicana che andava rispettata, alla quale ho fatto appello e oggi ho trovato giustizia che mi restituisce tanto rispetto alle sofferenze di questi mesi e soprattutto mi dà tantissima forza per continuare il mio impegno politico in città, nella mia città di Agrigento e nella Sicilia.